Claudio, sei arrivato a Messina, che impatto hai avuto e perché scegliere il Messina? Sono arrivato qua con tanto entusiasmo, io volevo fare gli ultimi anni al sud e quest'anno sono arrivato ieri sera a Messina e sono felice, voglio dare il mio contributo per questa squadra, per questa società e sono arrivato carico perché sono due o tre mesi che mi manca veramente il calcio e è stata la società che più mi ha voluto e sono arrivato qua con veramente tanto entusiasmo. Una vita tra Serie B e Serie C, sempre nel professionismo, la prima volta in D, come ti approccia questa nuova avventura, questa nuova sfida? Spero di starci il meno possibile, intanto, poi per l'approccio sarà, io sono venuto in D però so che qua c'è tanto entusiasmo per tornare in C, sono venuto giù per questo, per rifare una cavalcata e ci metterò tutto l'impegno possibile. Hai avuto modo in queste settimane di vedere l'impatto che hanno avuto i nuovi compagni con la piazza? Sì, ho visto il direttore Obedio, mi ha mandato tutti i video, poi mi ero già informato con qualche ragazzo, mi hanno detto che c'è veramente tanto entusiasmo, poi bisogna essere bravi noi a riportarli allo stadio e a farne venire tanti altri. Cosa vuoi dire ai tifosi in questo momento quando mancano pochi giorni al debutto in campionato? Che ci prepareremo al meglio per questo campionato e per fare, come ho già detto prima, la cavalcata.